Alessa! Ciao! 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 Buona giornata! Vengo! Andiamo al mare! Mare! Dove passi al mare! Andiamo a trovare Livio! Guardate come corre Antonio! Oggi è una stupenda giornata! Questa è la compagnia! Aspetta! Non ho l'entrata! Vai Alessa! Vai! Vai! Fai vedere la parte migliore di te! Dai! Dai! Perchosa! Hai! Grazie a tutti.